Ma che è qui il nuovo giume? Ma non è? Ma che è il tuo giume? E che è che è il giume? Ciao, una vittoria storica. Grande vittoria storica, adesso due giorni per festeggiare e poi iniziamo a lavorare per riportare Terni alla normalità. Si aspettava una vittoria così schiacciante? Aspettavo una vittoria, adesso così è veramente straordinaria. Grazie.